Con grande piacere che continuo nella presentazione di questi incontri. Avete il dépliant sugli scienziati tedeschi che sono stati soci di questa Accademia nel tempo. E' il terzo ultimo appuntamento, poi ce ne sarà uno ancora il 18 giugno su Hilbert e Jäger e uno a ottobre su Von Loyer e BitCover. Tutti interessanti. Oggi, devo dire, si scontrano, non si scontrano, si incontrano dei giganti. Due parole, naturalmente, dire di Max Planck, si può dire, è stato quello che ha creato una disciplina totalmente nuova, rivoluzionaria, la meccanica quantistica. E' stato socio di questa Accademia a partire dal 1922 e sicuramente di quelli che hanno dato maggiori contributi alla storia della scienza. E la sua scoperta continua a produrre frutti lungo tutto il Novecento e continuerà nel tempo sicuramente. Ma ci parlerà di Max Planck, con molta maggiore competenza e autoderevolezza, il socio Enrico Predazzi, che ho già presentato poco tempo fa. Per chi non fosse presente allora, ridico alcune cose, più magari qualcuna ne invento per aggiungere qualche cosa che non sia noto a tutti. E' un professore emerico di fisica, fisica teorica, e presidente di Agora Scienza, questa associazione che si occupa della divulgazione scientifica, che è collegata ormai a questa Accademia, oltre che al Centro Scienza, nel progetto della Compagnia di San Paolo di Sistema Scienza. ha svolto un'intensa e intensissima attività scientifica in fisica teorica, teoria delle partizie elementari, nelle alte energie, sui fondamenti della meccanica quantistica. Fa parte della Commissione Nazionale del MIUR, presso l'UNESCO, membro onorario della Società Italiana di Fisica. È stato preside, ce lo ricordiamo bene, chi era la facoltà di scienze, è stato mio preside, eetta, bisogna dire qualcosa di questo signore. Molti incarichi, soprattutto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, direttore del Dipartimento di Fisica, dottorato di ricerca, tantissimi. Poi è stato visitatore presso molte università, e non le dico, sono troppe, e ha organizzato scuole, congressi, ha svolto tutta la sua attività di docente universitario ad alto livello e di socio di questa Accademia ad alto livello. Per cui sono ben lieto di cedergli la parola e ci darà qualcosa su Max Planck. Grazie. Grazie, grazie Franco, grazie all'Accademia per questo invito. Invito che, devo dire, è particolarmente prestigioso, perché parlare di Planck è da un lato un po' una sfida, ma certamente è un grande piacere. Planck nasce il 23 aprile del 59, 1859, a Kiel, e muore a Gotting il 4 ottobre del 47. Aveva praticamente 90 anni, 89 insomma. Ed è uno degli scienziati dei quali si può tranquillamente dire che ha cambiato la storia della sua disciplina. Si può dirlo, tra l'altro, l'ha cambiata in maniera molto riluttante. Lui era un grande conservatore, una persona che tutto voleva a meno che fare una rivoluzione, anche se solo scientifica. è certamente uno dei fisici che ha dato i maggiori contributi alla fisica, ma, come diceva il nostro direttore, sicuramente è ancora lontano il giorno in cui la rivoluzione incominciata il dicembre del 1900 sarà capita in modo definitivo, se mai lo sarà. Quindi nasce nel 1859 e il layout della mia breve discussione è fatta di questi punti. Il teorema di Kirchhoff è la formula di Planck, cenni biografici, Planck, la fisica tedesca e il nazismo, verso la meccanica quantistica, lo spettro del corpo nero e i suoi sviluppi. Se ci riesco, cenni sull'unità di misura di Planck, che è un altro aspetto molto interessante, e poi i suoi riconoscimenti onorifici. Il nome completo è Karl Ernst Ludwig Marx, che poi viene accorciato in Marx, forse non casualmente, dati i tempi. Quello che è interessante è che lui nasce nel 1859, ma quando lui ha poco più di un anno, avvengono alcuni fatti che cambieranno completamente il corso della fisica. Il primo in ordine di tempo, ma il meno importante, è dovuto a Urbain Le Verrier, che era un noto matematico astronomo, a quell'epoca le due cose coincidevano quasi, che aveva essenzialmente previsto l'esistenza di Nettuno sulla base di calcoli, calcoli per l'epoca molto raffinati di orbite dei pianeti, e che nel settembre del 1859 scrive all'Académie de France proponendo che le discrepanze nel calcolo della meccanica classica col perielio di Mercurio siano dovute all'esistenza di un non ancora scoperto pianetino interno all'orbita di Mercurio, e quindi lo chiama vulcano. In realtà, come sappiamo, sarà soltanto la relatività generale di Einstein quella che darà la spiegazione corretta, ma è comunque un interessante sviluppo per l'epoca. Un mese dopo, il 24 ottobre 1859, Kirchhoff enuncia il suo teorema, su cui adesso torno. Il 24 novembre esce il libro di Darwin sull'origine delle specie. E pochi anni dopo verranno la teoria di Maxwell, 1864, dell'elettromagnetismo, e la tavola di Mendeleev, 1869. Il teorema di Kirchhoff è un teorema assolutamente fondamentale nella storia della fisica, ancorché oggi non più così conosciuto, o meglio, dato talmente per scontato da considerarsi come una cosa di cui non vale anche la pena di parlare, e stabilisce che la radiazione emessa da un corpo all'equilibrio termico è indipendente dalla natura della sostanza che la emette. Come voi sapete, tutti i corpi emettono radiazioni, a meno che siano allo zero assoluto, ma allo zero assoluto non ci si può arrivare per un altro motivo di cui oggi non parleremo. E quindi... Però la cosa assolutamente fantastica di questo teorema è proprio lo stabilire che la radiazione emessa è indipendente dal fatto che le emetta questo tavolo, quel mappamondo, questi libri. Cioè, quando io considero che tipo di radiazioni vengono emesse, queste sono indipendenti dalla natura, dalla sostanza del corpo che le emette. Lui ne fa una definizione matematica che non ci interessa in maniera speciale, ma essenzialmente mi dice che il coefficiente di assorbimento dipende solo dalla frequenza nu della radiazione emessa e dalla temperatura a cui il corpo emette. Come lo dimostra questo teorema? Lo dimostra in una maniera estremamente semplice, cioè verificando che la sua violazione comporterebbe l'esistenza di un moto perpetuo di secondo tipo che, per specificare cosa vuol dire, vorrebbe dire una macchina in grado di estrarre calore da una sola sorgente a temperatura costante per trasformarlo in lavoro. E questo noi sappiamo dalle leggi della termodinamica che non è possibile. È un teorema di portata eccezionale e a me, devo dire, ricordo un po' l'ipotesi di Avogadro come generalità e come assolutezza della sua affermazione. Dopodiché siamo nel 1859, Planck ha un anno, Kirchhoff sottolinea l'importanza di determinare questa funzione e di lì in poi la termodinamica viene messa a dura prova per cercare di riuscirci. Ci sono delle leggi molto importanti, per esempio la legge di Stefan Boltzmann che parla dell'integrale di questa funzione sulla frequenza, quindi della sola dipendenza della temperatura, il teorema di Winn che è un teorema esatto che però non mi dà la forma della funzione ma mi dice soltanto in che rapporto di nu su t deve essere. Poi una legge empirica di Winn che mi dice come deve essere l'andamento di questa funzione per grandi frequenze. La termodinamica mi sa anche dire come deve essere l'andamento di questa funzione per basse frequenze, su questo termine ve lo farò un attimo ma essenzialmente non mi sa dire come è fatta questa funzione e passeranno 41 anni 41 anni per un fisico è un'età molto matura in generale a 41 anni uno ha già fatto se doveva fare qualcosa di importante l'ha già fatto. Planck è un controesempio e ci arriva in due passi. Prima una intuizione su come costruire una funzione e verificare che effettivamente questa funzione dà il risultato che lui vuole e poi l'ipotesi che lo conduce proprio a esattamente questa funzione il 14 dicembre del 1900. Pensate che formidabile apertura di secolo per una materia così importante che nel 1900 sarà tra l'altro così fiorente. Questa è la sola formula che vi darò ma ci tengo a darla per un motivo. Allora questa è la formula ve la farò vedere fra un attimo in come si riproduce ma notate ci sono un certo numero di grandezze un 8 che vuol dire 8 un pi greca che è 3,14,15 eccetera cioè il pi greca h sulla quale torneremo fra un attimo nu che è la frequenza della radiazione emessa c che è la velocità della luce quasi esattamente 300.000 km al secondo all'epoca si sapeva già e poi c'è ancora nascosto nella formula lì sotto k che si chiamerà che si chiama costante di Boltzmann ma che qua non mi interesserà h è una costante che Planck introduce che noi chiamiamo costante di Planck dimensionalmente per chi abbia queste ubie è una energia per tempo si chiama in fisica si chiama azione e ha un valore che sta scritto qua e che vi prego di guardare non per i numeri che ci sono davanti ma per quel numero che si chiude 10 alla meno 34 joule per secondo ora io penso che più o meno tutti ormai abbiamo un'abitudine a capire che cosa sono le potenze di 10 e così via ma 10 alla meno 34 vuol dire qualunque sia la grandezza che io misuro supponiamo che fosse un metro che io prendo un metro lo divido in 10 prendo un decimetro lo divido in 10 prendo il centimetro che ne risulta lo divido in 10 prendo il millimetro che ne risulta lo divido in 10 e continuo a dividere in 10 per 34 volte quindi un numero di una piccolezza assolutamente assolutamente inimmaginabile dal punto di vista della fisica classica per la quale una azione tipicamente sarebbe potuta essere joule per secondo se io faccio cadere un chilo di qualcosa quello mi genererà una energia eccetera eccetera ma joule per secondo è già piuttosto grande ma qualche frazione di joule per secondo 10 alla meno 2 joule per secondo cose di questo genere sono cose molto comuni azioni 10 alla meno 34 è un numero spaventosamente piccolo in compenso con quel numero che io non riesco neanche a immaginare come ai tempi di Planck avessero dei calcolatori che gli permettessero lo facevano a mano ovviamente di fare il conto guardate il risultato che dà quelle palline che vedete disseminate qua sono i dati sperimentali che come vedete hanno più o meno la dimensione della curva stessa quindi 10 alla meno 34 se io invece di prendere 10 alla meno 34 ci mettessi 0 ma che differenza fa 0 con 10 alla meno 34 dal punto di vista della fisica classica nessuna sarebbe tutta un'altra cosa che vedremo fra un attimo quindi risultato di questa equazione che sta qua scritta qua su è questa perfetta coincidenza e all'epoca in cui Planck la deriva si conosceva molto bene la coda la coda per grandi valori della della frequenza così come l'inizio per piccoli valori della frequenza ma non si conosceva tutta la campana centrale quella era essenzialmente impossibile da riprodurre allora questa piccolezza è proprio quella che ci fa dire che la fisica che sta nascendo è quella che in un precedente seminario abbiamo chiamato l'infinitamente piccolo non è infinitamente piccolo perché infinitamente piccolo vorrebbe dire 0 ma è tanto piccolo dal punto di vista delle grandezze classiche da essere veramente straordinariamente piccolo allora prima di vedere come nasce cioè qual è l'ipotesi che Planck formula per arrivare a questo risultato facciamo parliamo un po' della vita di Planck Planck nasce a Kiel da una famiglia di giuristi e di pastori protestanti il padre è stato uno dei redattori del codice civile tedesco siamo intorno ai tempi dell'unificazione della Germania anche e da Kiel si trasferisce a Monaco dove frequenta prima il ginnasio e poi l'università ma nel frattempo fa un viaggio di studio a Berlino che gli fece gli lasciò un segno molto importante fra l'altro avendo l'opportunità di sentire lezioni sia da von Helmholtz che da Kirchhoff stesso e poi vi dirò quando si laurea con chi e cosa fa ma nella sua autobiografia scritta poco prima della morte quindi dopo la guerra dopo la seconda guerra mondiale a pagina 11 della sua conoscenza del mondo fisico scrive una cosa che mi è sembrata importante abbastanza da riportarvela in intero che dice la decisione di dedicarmi alla scienza fu conseguenza diretta di una scoperta che non ha mai cessato di riempirmi di entusiasmo fin dalla prima giovinezza le leggi del pensiero umano coincidono con le leggi che regolano la successione delle impressioni che riceviamo dal mondo intorno a noi sì che la logica pura può permetterci di penetrare nel meccanismo di quest'ultimo a questo proposito di fondamentale importanza che il mondo esterno sia qualcosa di indipendente dall'uomo qualcosa di assoluto la ricerca delle leggi che si applicano a questo assoluto mi parla lo scopo scientifico più alto della vita è interessante per tanti motivi primo perché è vero è assolutamente vero quello che scrive ma anche perché va oltre la verità di quello che scrive perché dire che la logica pura può permetterci di penetrare nel meccanismo di quest'ultimo cioè del mondo intorno a noi nel suo caso diventa rivoluzionariamente vero perché gli permette di fare delle considerazioni di derivare quell'equazione che vi ho fatto vedere prima che poi quando sarà capita più a fondo e diventerà la meccanica quantistica genererà una teoria fisica che sfugge al nostro concepimento di esseri macroscopici alcune delle cose che mi dice la meccanica quantistica ma che verifico essere sperimentalmente vere quindi non fantasie sfuggono veramente alla capacità di inquadrarle in una logica di tipo macroscopico per chi mi segue da un punto di vista fisico pensiamo al principio di indeterminazione di Heisenberg per esempio al fatto che non si possa raggiungere lo zero assoluto a cose in cui la piccolezza delle piccolo un fisico non dovrebbe mai usarlo perché piccolo rispetto a cosa dovrebbe dire ma la piccolezza rispetto alle grandezze fisiche classiche della meccanica quantistica è sbalorditiva quel 10 alla meno 34 ve lo dimostra si diploma a 16 anni prende l'abitura a 16 anni nel 1874 si iscrive all'università di Monaco dove il suo professore io non so se un tedesco lo pronuncerebbe Philip von Jolly ma diciamo a me viene di pronunciarlo Philip von Jolly Jolly però dovrebbe dire Jolly no? vabbè comunque si la pronuncia che forse soltanto von Jolly conosceva gli dice guarda non studiare fisica perché è un campo in cui quasi tutto era stato scoperto quello che resta sono riempire pochi buchi e qua è divertente perché questo all'epoca era un pregiudizio abbastanza diffuso io in un'altra sede ho ricordato che nel 1900 e pensate nel 1900 la fisica classica ha visto la rivoluzione di Maxwell che è una rivoluzione vera e propria ha scoperto da poco i raggi X quindi ci sono i pedometri con i quali le signore si fanno prendere le misure dei piedi per essere sicuro che sia giusto sparandosi raggi X addosso hanno scoperto la radioattività naturale è stato scoperto l'elettrone ed è l'anno ma questo un po' prima di quando Lord Kelvin dirà questo è l'anno in cui Planck pone come abbiamo già visto 1900 le basi della meccanica quantistica beh in quello stesso anno Thompson già Lord Kelvin a una riunione della British Association for the Advancement of Science direbbe there is nothing new to be discovered in physics now all that remains is more and more precise measurements non c'è più nulla da scoprire solo fare misure precise e salvo aggiungeva per fortuna salvo per due nuvole minori la non invarianza per trasformazione di Galileo dell'elettromagnetismo e da questo nascerà la relatività speciale prima generale poi e l'impossibilità della fisica classica di spiegare lo spettro del corpo nero che è quello di cui stiamo parlando parlando di Planck da cui nascerà la meccanica quantistica come dire le due maggiori rivoluzioni della fisica dai tempi di Galileo a questa data davvero due nuvole di poco conto però due nuvole che diciamo gli permettevano di dire non c'è niente di nuovo sotto il sole e la risposta di Planck a Jolly fu anche questa secondo me paradigmatica lui disse che lui non mirava a scoprire cose nuove ma solo solo a capire quelle fondamentali non era non voleva andare molto lontano ma certo voleva andare molto lontano e quello che è divertente è che sotto la supervisione di Jolly Planck fece l'unico esperimento della sua carriera peraltro poi totalmente di fisico teorico continuando nella vita di Planck nel 78 quindi a questo punto ha 20 anni esattamente 20 anni nell'ottobre del 78 passa gli esami di abilitazione e nel febbraio del 79 difende la sua dissertazione e un anno dopo la sua tesi di abilitazione badate è dottore di ricerca a 21 anni non male dopodiché due o tre anni passati a fare il private lecture non pagato all'università di Monaco e nell'85 è chiamato Achille come professore associato e però a questo punto come vedremo più tardi era già nell'Accademia delle Scienze plussiana e finalmente nell'89 a 30 anni diventa ordinario proprio sulla cattedra che era stata di Kirchhoff quello di cui parlavamo all'inizio i suoi campi di ricerca sono come uno si può aspettare molto vasti io mi limiterò a dire qualche parola sulla legge di irraggiamento del corpo nero da cui appunto nascerà la meccanica quantistica salto tutto il resto se riesco dirò due parole sulle unità di misura fondamentali ma probabilmente neanche su questa e ancora qualche richiamo bibliografico Planck ebbe quattro figli dalla prima moglie che muore nel 1909 l'aveva sposata nell'87 Erwin Grethe Emma e Carl e uno dalla seconda moglie è l'unico Herman che gli sopravviverà anche se di poco di sette anni moglie che sposa nel 1911 e che muore lo stesso anno in cui muore lui 1947 il primo figlio Carl muore nella prima guerra mondiale a Verdun Grethe e Emma muoiono entrambe di parto tragico e Erwin fu ucciso dovrei dire giustiziato ma non mi pare che il termine giustizia sia in questo caso utilizzabile dai nazisti per aver partecipato all'attentato della Volkshanze contro Hitler Erwin era stato sottosegretario di Von Papen cancelliere e quando Hindenburg nomina Hitler cancelliere il 30 gennaio del 1933 la prima cosa che fa è licenziare Erwin Planck nel 1942 e 1943 viene in contatto attraverso tutte queste persone con i cospiratori militari dell'attentato di Von Stauffenberg e quindi nel 20 luglio del 44 viene arrestato dalla Gestapo candannato morte il 23 ottobre e ucciso il 23 gennaio quindi pochi mesi prima della fine della guerra questo è un capitolo che io non aprirò se non proprio solo per per darci una brevissima sbirciatina perché non c'è nessun modo nel quale possiamo coprire il capitolo della vita di Planck e men che meno della fisica tedesca recentemente è uscito un volume che è stato recensito anche da Radioscienza qualche settimana fa di Philip Ball al servizio del Reich come la fisica vendette l'anima ad Hitler io direi che di questi casi che lui esamina Planck Debye e Heisenberg conosco molto bene quello di Heisenberg che peraltro è talmente è talmente come dire ambiguo che anche conoscerlo molto bene non vuol dire sapere cosa è successo conosco o conosco un po' meglio quello di Planck perché l'ho approfondito in queste ultime settimane non conosco quello di Debye che era forse quello meno ambiguo ma Debye era olandese quindi la fisica tedesca qua c'entra solo tra certi limiti però tornando a Planck quando Hitler prende il potere Planck 1933 aveva 74 74 anni quindi era già una persona non proprio più giovanissima anzi se vogliamo per l'epoca era già piuttosto anziano all'epoca era anche presidente della Wilhelm Kaiser Kaiser Wilhelm Gesellschaft e quindi era anche una persona che non solo ormai premio Nobel è venerato ma insomma importantissimo pare che va a parlare a Hitler e cerca di spiegargli che fa male a prendersela con i fisici ebrei perché i fisici ebrei sono la crema dei fisici mondiali e quando Hitler infuriato minaccia di mandarlo in campo di concentramento immediatamente lui smette e di lì in poi la sua posizione nei confronti del nazismo è molto quieta essenzialmente aspetta che passi la tempesta e consiglia di aspettare consiglia a tutti i suoi amici di aspettare che la tempesta passi quindi essenzialmente si era reso conto che c'erano non so se si fosse reso conto veramente che Hitler era un pazzo ma che era una persona molto pericolosa sì e quindi tiene un atteggiamento molto riservato che d'altra parte era anche un po' nella sua natura Planck non solo per l'età ma anche proprio per la sua educazione era un prussiano molto rigido insomma quindi la morte del figlio Erwin deve essere stato un momento assolutamente da neanche immaginarsi e però ritorniamo adesso alla meccanica quantistica e ormai Planck è una persona molto molto rinomata e quando fa la sua derivazione della formula che vi ho fatto vedere è una persona già molto conosciuta ha già tutta una serie di riconoscimenti il problema che lo attira è quello del fallimento della fisica classica nel sospiegare lo spettro del corpo nero sul quale mi sono dilungato abbastanza nella relazione precedente quindi qua lo ricordo solo molto brevemente ed è essenzialmente il problema di capire la formula del teorema di Kirchhoff che tipo di formula dovrebbe avere per descriverla perché la fisica classica da un lato portava a quella che si chiama la legge di emissione che propone una crescita indefinita con il quadrato della frequenza emessa proporzionale a un quadro e l'empirica diciamo la corrispondenza empirica è la legge di Wint che mi dice che l'andamento è un esponenziale decrescente in mezzo cosa c'è? Allora qua viene l'idea assolutamente rivoluzionaria di Planck che parte dopo averla derivata la formula in forma empirica e sapere quindi dove vuole arrivare parte dall'ipotizzare che la materia sia costituita da oscillatori elementari che emettono per multipli interi della frequenza irraggiata cioè per quanti lui li chiama di energia e quindi emettendo delle radiazioni la cui energia è con n e n dove n è un numero intero 1, 2, 3, 15 100.000 un milione volte h eccola là la costante di Planck nasce qui nu h nu sta a significare una energia perché se vi ricordate le dimensioni di h sono energia per tempo una frequenza è l'inverso di un tempo quindi tempo e tempo si semplificano energia però Planck immagina che lui fa i calcoli e poi risolto i calcoli manda a zero la costante di Planck che è talmente piccola 10 alla meno 34 cosa serve se la manda a zero ecco cosa succede la curva blu che vedete è la curva della formula di Planck la curva verde è quello che succede se la costante di Planck è messa a zero una divergenza che in fisica prenderà il nome di catastrofe ultravioletta allora saltiamo di qualche anno nel 76 Segret il premio Nobel Emilio Segret raccontava che per anni Planck aveva cercato in tutti i modi di spiegare come la sua scoperta si potesse interpretare senza necessariamente portare una rivoluzione e raccontando la sua resa diceva fu un atto di disperazione avevo provato a far di tutto e alla fine sono dovuto arrendermi alla fine della sua vita commentava ho provato immediatamente a condurre il quanto di azione in qualcosa di relazionato alla fisica classica ma non ci sono riuscito in nessun modo ebbene il risultato di questo insuccesso classico fu proprio la nascita della meccanica quantistica come oggi noi la conosciamo e io vi risparmio questo elenco di tappe che sono tutte delle tappe che valgono premi Nobel a destra e a sinistra ma che arrivano ai giorni d'oggi e che ai giorni d'oggi sono essenzialmente ancora in grande evoluzione quello che è straordinario della meccanica quantistica è che appunto siamo ben lontani dall'aver capito la sua fondamentalità non parlerò delle unità di misura ma vi parlo un attimo dei riconoscimenti onorifici di Planck tantissimi francobolli commemorativi di tutti i tipi ma non non soltanto tedeschi o svedesi per il premio Nobel o che so io inglesi o italiani non mi pare ma le isole Comore la Guinea-Bissau il Gabon il Mali insomma tutti i paesi del mondo quindi è veramente uno scienziato di grandezza riconosciuta a tutto il mondo e che è stato riconosciuto in vita sua da tutta una serie di riconoscimenti nel 1894 è già sorso dell'Accademia Reale Prussiana delle Scienze 1914 socio straniero dell'Accademia dei Lincei 1918 premio Nobel per la Fisica medaglia Libiga 1922 11 giugno ma non sono riuscito a trovare la lettera di ringraziamenti da parte sua forse non c'è stata socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino dopo di che membro della Royal Society presidente della Kaiser Wilhelm Gesellschaft appunto tra il 30 e il 37 l'incontro con Hitler del 33 nel 33 22 luglio socio straniero dell'Accademia delle Scienze membro della società filosofica americana bla 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 si chiude col premio Goethe del 1945 e vorrei chiudere con la stima nella quale Planck veniva tenuto in patria dopo la seconda guerra mondiale la società Kaiser Wilhelm che era stata fondata dal Kaiser Guglielmo viene rifondata nel 48 dal premio Nobel Otto Hahn e ribattezzata in onore di Planck quindi una veramente un riconoscimento straordinario ed è quella che ancora oggi è la Max Planck Institute con mi pare grossomodo un'ottantina di istituti in Germania ma non solo in Germania e in altri paesi e la società Max Planck vanta più premi Nobel di qualunque altra istituzione mondiale bene Planck muore a Göttingen il 4 ottobre del 47 a quasi 90 anni ottobre del 47 aprile del 48 avrebbe avuto 90 anni e riposa a Göttingen e questa è la sua tomba e io chiudo sullo scherzo perché l'incontro Torino Berlino continuerà Berlino il 6 giugno quando la Juventus a Berlino incontrerà il Barcellona e io spero che vinca il migliore cioè Torino grazie 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 grazie